Allora, questo risultato elettorale è stato comunque un risultato che ci è piaciuto molto, ci è soddisfatto, siamo veramente pieni di gioia. Abbiamo raggiunto quello che è il nostro obiettivo, il ballottaggio, chiaramente siamo consapevoli che adesso è una partita che ricomincia 0-0, siamo pronti alla battaglia, siamo certi che Cisterna risponderà bene e soprattutto siamo convinti che adesso si tratta veramente di una battaglia generazionale. Quindi con tutta la semplicità e l'umiltà che ci ha contraddistinto andremo avanti, faremo le nostre proposte e continueremo a farle, a lavorare sul programma e credo che ci potrebbero essere grandi, grandi sorprese. Questo è quello che ci aspettiamo, saranno due settimane importanti e l'obiettivo che abbiamo raggiunto in termini numerici ci ha soddisfatto, stiamo aspettando chiaramente anche tutti i risultati delle liste, insomma perché quello è anche importante e onestamente siamo pronti.